Ciao a tutti, bentornati sul canale! Io sono Sabrina Pietrangeli, sono una life coach, oggi voglio parlarvi del tema dell'antifragilità. Se ne sente parlare ancora poco, è un pochino più in voga il termine resilienza che vuol dire chiaramente un'altra cosa. L'antifragilità è praticamente la capacità di capire in quale modo rimanere saldi a partire proprio dai propri punti fragili. Cioè, conoscendo in maniera seria quali sono le proprie fragilità, si può mettere in atto a livello preventivo una serie di azioni che permetteranno a noi stessi di rimanere saldi quando ci esporremo ai fatti della vita che possono un pochino farci tremare le fondamenta. Penso che il modo migliore per potervi spiegare questo concetto sia quello di raccontarvi in termini pratici un evento della mia vita, un evento recentissimo. Molti di voi non sanno che io ho un figlio di quasi 18 anni che è nato con una problematica malformativa di tipo urinario e che gli ha comportato gravi conseguenze a livello renale. Per cui il mio ragazzo, il mio ragazzone oramai, da quando è piccolino soffre di insufficienza renale cronica. Questo nel tempo ovviamente si è amplificato e siamo arrivati a circa un anno fa che ha dovuto fare un intervento per montare una fistola e prepararsi alla dialisi in vista di un futuro trapianto. La dialisi ancora grazie al cielo non c'è, siamo sempre un po' così ai limiti però si riesce ancora ad andare avanti senza aver iniziato questo complicato processo. Tutto sommato però è stato inserito in lista trapianti da circa sei mesi perché per almeno tre volte le sue analisi, i suoi parametri hanno raggiunto livelli tali da poter consentire l'inserimento nella lista di attesa per urrene. Che cosa succede? Quando una persona è in questo tipo di processo può succedere che riceva all'improvviso una chiamata dall'ospedale dove si dice che c'è urrene disponibile. Questo è proprio ciò che è accaduto qualche giorno fa alle 10 di sera. Alle 10 di sera di qualche giorno fa, di un sabato sera, ho ricevuto questa telefonata dall'ospedale che mi invitava a presentarmi il mattino dopo a fare i tamponi sia per me che per mio figlio eventualmente a entrare al ricovero nell'attesa di sapere se il bambino barra ragazzo o ragazza non sappiamo chi c'era prima in lista prima di mio figlio fosse stato o meno compatibile con il donatore che purtroppo era deceduto in quel giorno. Questo ragazzo, questo bambino prima di mio figlio doveva fare dei match cross, dei cross match, non so come si chiamano per capire il livello di compatibilità che se fosse stato molto alto avrebbe premesso a questo ragazzo di prendere questo rene se invece i livelli fossero stati bassi il mio figlio di default sarebbe passato senza fare cross match perché li ha fatti a suo tempo e loro già avevano testato tramite i vari computer eccetera che lui era compatibile in buona misura diciamo. Allora voi immaginate, arriva questa telefonata in cui non si tratta semplicemente di sbrigarsi per andare in ospedale si tratta di entrare improvvisamente in una dimensione nella quale voi non gestirete più per i prossimi 20-30 giorni il vostro lavoro siete strapiantati da casa, siete inseriti in un reparto di ospedale dal quale non uscirete più neanche per la colazione e il pranzo che vi verrà passato in camera per cui veramente è uno stravolgimento, tu lasci una casa così com'è lasci i tuoi affetti, lasci i tuoi animali, lasci i tuoi interessi, le tue cose, i tuoi vestiti, i tuoi libri lasci tutto, tutto quello che è il tuo mondo e che in qualche modo ti fa da cuccia, ti protegge perché è inutile dirlo, non è che siamo tutti nomadi tutti noi ci poggiamo anche nelle sicurezze che la nostra casa ci regala nelle cose belle che ci siamo costruiti attorno è lo sconvolgimento più grande quando vengono i ladri a rubarci in casa che hanno messo le mani nelle nostre cose, sono entrati nella nostra intimità oppure quando la nostra casa viene lesionata per un terremoto e non possiamo più rientrarvi quindi è una questione veramente di sconvolgimento con in più l'ansia di doverti occupare e preoccupare della salute della persona che ami di più al mondo insieme agli altri due ai tuoi figli quindi veramente è stato un momento in cui le fondamenta un po' hanno tremato vi devo dire la sincera verità, lì per lì la telefonata mi ha trovata veramente nel controllo di ghiaccio proprio sai nel qui e ora che ho detto minchia, è una cosa veramente importante e seria e credetemi che quella telefonata è arrivata in un momento in cui già c'erano delle criticità all'interno della nostra famiglia in quei giorni perché c'era un'altra figlia che non è la mia ma del mio compagno ma comunque faceva parte del nostro gruppo di cinque figli che non stava bene da giorni, che aveva fatto ripetuti pronti soccorso che era una situazione ancora appesa e che in quella notte proprio è stata di nuovo ricoverata d'urgenza quindi immaginate insomma il tafferuglio pazzesco ecco io in questa situazione mi sono resa conto che a livello pratico non ero così pronta lo ero stranamente a livello emotivo ma presto magari sarai franata proprio a causa delle situazioni pratiche che mi avrebbero vista in difficoltà esempi cretini magari per qualcuno però per me sono cose comunque importanti lasciare in casa un uomo da solo, un uomo che lavora tutto il giorno, che la sera rientra sporco, stanco, fa il meccanico eccetera pensare che magari non era perfettamente organizzata la spesa per carità la può fare lui è capacissimo di cavarsela anche da solo ma non è solo quello ci sono dei bucati da fare per le sue tute, per le sue cose che comunque gli servono come uomo per andare a fare la sua professione che vi posso dire avevo fatto il cambio di stagione e un po' per pigrizia un po' per dare precedenza ad altro mi ritrovavo su queste maniglie dell'armadio della camera con tre gruppi di bluse da stirare appesi quindi c'era un disordine anche visivo che creava fastidi non stiravo da un mese perché odio stirare lo faccio quando proprio sono strozzata e non ce la faccio più e purtroppo mi trovavo con il cestone già colmo di panni ci sono tre animali a cui pensare insomma c'era tutta una serie di cose che veramente mi causavano disagio perché comunque sono una persona che ama sistemarsi le sue cose ama vivere in una casa in ordine eccetera magari nel giro di tre giorni quelle cose io le avrei risolte ma queste telefonate non ti danno tre giorni ti danno dodici ore, non c'è tempo, bisogna muoversi allora ho capito in quel frangente lì che nella situazione in particolare della mia vita della salute di mio figlio debbo necessariamente mettere in campo l'antifragilità siccome è una situazione che si ripeterà perché poi a quel ragazzo prima di mio figlio è andata bene quindi noi nuovamente saremo chiamati una prossima volta sia per essere magari i primi sia per essere nuovamente secondi perché i primi due vanno chiamati sempre quindi accadrà altre volte e ho deciso di farmi trovare pronta magari ho deciso che preparerò ad esempio una lista dettagliata di cose da portare in ospedale per vivere quei venti giorni in una dimensione di casa mia sembra strano a dirlo ma voi che magari non mi conoscete non sapete che proprio per le problematiche legate alla salute di mio figlio quando lui è nato io ho vissuto sette mesi in ospedale sette mesi con due bambine a casa di 5 e 2 anni gestite da nonni, ex marito eccetera eccetera ad oggi per esempio il mio ex marito cioè il padre dei miei figli è in Portogallo e chiaramente quel giorno quando l'ho avvisato della criticità che era sopravvenuta giustamente anche lui si è creato il problema di come venire rapidamente senza sconvolgersi la vita considerando che ha un'attività di ristorazione in Portogallo che purtroppo per mesi è stata ferma ma fortunatamente proprio in questi giorni con la riapertura del lockdown ha iniziato a prosperare di nuovo e quindi c'è un grande bisogno di recuperare quello che si è perso in tanti mesi per di più lui sempre ha viaggiato prenotando biglietti aerei con un anticipo che gli ha permesso di pagarli magari 90 euro e così a breve distanza il biglietto sarebbe costato mille per cui era tutta una serie di cose da dover prendere in considerazione che dinanzi all'urgenza chiaramente diventano forse meno importanti ma purtroppo sono anche significative quando devi gestire con quel poco che hai in quel momento quindi perché la lista? la lista perché nelle mie precedenti esperienze ospedaliere ho imparato che se mi circondo delle mie cose e all'epoca ricordo mi dipingevo sui sassi avevo ciottoli di fiume su cui dipingere mi piaceva tantissimo se mi portavo dietro queste cose anche di hobby se vogliamo il mio stato emotivo ne beneficiava ok? quando mi hanno detto signora guardi che lei di qui non esce ma io vi sono venuta a fare solo il tampone pensavo che poi ci mandavate a casa in attesa del risultato di quel ragazzino no no intanto vi diamo il letto eventualmente se deve prendere la valigia per lei e suo figlio ci va stanotte dopo che giorno è stato trapiantato e sta in terapia intensiva cioè veramente panico avevo pochissime ore per farmi una doccia lavarmi i capelli organizzare quanti e quali cambi portare per me e per mio figlio le cose sanitarie le medicine mie c'ho una cardiopatia comunque devo portare le mie cose veramente era avere un'unica occasione e pochissimo tempo per poterla sfruttare mi sembra come quei giochi a quiz che vi danno 1000 euro e le dovete spendere per forza quindi ho capito che per esempio una prima regola per me dell'antifragilità considerando questa situazione che comunque dovrò rifronteggiare in modo definitivo o magari momentaneo una prossima volta sarà importante avere nel mio cellulare una lunga lista di cose da fare da prendere sarà importante che tutte le mie app siano a posto le password delle cose bancarie sarà importante per me cercare di continuare a lavorare anche stando ricoverato con mio figlio trovarmi uno spazio per fare le mie consulenze online perché comunque fermare un lavoro un mese significa a un certo punto trovarsi in difficoltà per le proprie utenze di casa per l'affitto per pagare le proprie spese e non pesare completamente sull'altro membro della famiglia quindi capite è molto molto importante in questo senso andare a scandagliare sbagliare della propria vita quali sono le fragilità cos'è che oggi mi rende fragile la solitudine la paura della povertà che ne so il non sapermi gestire a livello organizzativo il crollare quando ho i miei affetti lontani fate veramente una lista di quello che ad oggi vi rende fragile la scarsità di guadagni non lo so qualunque cosa e poi cercate di mettere in atto in modo preventivo dei gesti che possano fare da bolla di protezione da scudo protettivo per le eventuali situazioni nelle quali la vostra fragilità sarebbe sotto attacco ecco questo è il consiglio quindi che vi posso dare lista delle fragilità lista di gesti concreti e calendarizzabili da poter fare per prevenire un attacco alla vostra fragilità raccontandovi un po' le mie cose magari un po' pesanti non lo so vi ho fatto capire a livello pratico questo cosa significa ok quindi per tornare al discorso per me lista di cose e attività da fare da portare eccetera eccetera perché è l'unica cartuccia che ho poi mi rinchiudo mi rinchiudo lì per giorni per cui devo veramente pensare a tutto quello che potrebbe accadere in 20 giorni di gestione solitaria della situazione malattia figlio intervento figlio è una cosa importantissima anche perché in una situazione come quella del trapianto non è che il genitore che arriva da fuori premesso che prima di 7-10 giorni magari non riesce non è detto non si può fare un giorno per uno una notte per uno diamoci il cambio in quella situazione non è purtroppo possibile quindi il genitore che arriva se vuole prendere il posto dell'altro genitore deve rimanere almeno 4 giorni previo tampone quindi immaginate l'assurdo ok cioè veramente molto molto difficile io spero di avervi in questo modo fatto assaporare proprio qual è il tema dell'antifragilità forse non ne avevate mai sentito parlare prima ora la conoscete come vi ho detto è differente dalla resilienza perché la resilienza è far fronte agli eventi della vita in modo diciamo flessibile ritornando alla forza originaria una volta che la bufera è passata ma anzi avendone carpito delle skill in più da poter spendere nell'arco delle esperienze successive l'antifragilità è proprio pensare prima a quello che ci potrebbe destabilizzare e magari quindi attutire il colpo immaginate quindi che unire l'antifragilità alla resilienza farà di voi una persona estremamente salda dal punto di vista dell'attacco delle sicurezze personali grazie per aver visto questo video aspetto i vostri commenti come sempre qui sotto e nell'info box trovate tutti i miei recapiti qualora desideraste fare un percorso di coaching con me vi saluto vi abbraccio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao